Con l'Officina 2.0 noi mettiamo in rete una piattaforma web in maniera di avere un collegamento costante con tutte le categorie economiche, perché non basta trovarsi una volta all'anno, due volte all'anno fisicamente per confrontarsi con gli operatori, ma dobbiamo costantemente, tramite la tecnologia, essere in contatto per poter proporre anche progetti di legge e iniziative concrete. L'Officina Veneto è partita da circa un anno, ci sono stati diversi incontri, in quali noi come confartigianato abbiamo sempre partecipato. Oggi si concretizza il tutto con questa piattaforma, credo sia una cosa positiva per mettere insieme tutte le varie parti sociali e far sì che si possa dialogare per magari trovare qualche soluzione in questo momento di oggettive difficoltà di mercato. Giudico molto positivamente l'iniziativa, si utilizzano le tecnologie per un confronto che è già iniziato e che continuerà per parlare del nostro Veneto, della situazione economica, delle tante difficoltà che anche il Veneto oggi sta vivendo e alle quali ci deve essere una partecipazione, una condivisione della società veneta, soprattutto attraverso il mondo dell'impresa e le associazioni di categoria.